Ci siamo un po' confrontate telefonicamente, quindi in attesa che Laura Miola ci raggiunga iniziamo e poi interverrà anche lei. Intanto grazie a tutti e tutti voi di essere qui presenti. Fatemi naturalmente ringraziare a partire dalla Presidente di Disabilmente Mamma, Antonella Tarantino, con cui abbiamo con lei e poi naturalmente con Laura Coccia, che mi fa particolarmente piacere non solo rivedere in presenza, ma rivedere dopo che eravamo state compagne di banco in Parlamento. Abbiamo iniziato questo percorso per la verità già nella scorsa legislatura, eravamo ambiziose nel provare a portare questa misura, che poi è una misura articolata, ne parleremo nella legge di bilancio, poi come sapete è saltato il governo e quindi eccoci qua. Alla vigilia della giornata della festa della mamma abbiamo pensato di ripresentare anche in maniera un po' più articolata, raccogliendo soprattutto le esperienze e le testimonianze delle madri disabili, un testo di legge articolato per l'appunto in alcuni articoli, che poi vedremo magari anche nel dettaglio. Se ci sarà tempo, in ultimo, ma non per ultimo, naturalmente ringrazio Marco Furfaro, che oltre a essere un collega e capogruppo della Commissione Politiche Sociali del Partito Democratico, ha anche la responsabilità delle iniziative politiche rispetto al contrasto delle disuguaglianze e soprattutto le politiche di welfare. Non ha potuto essere con noi, ma ci tengo almeno a citarlo, Jacopo Meglio, che anche lui sta in segreteria e anche lui ha, diciamo, supervisionato a questo lavoro, che è un lavoro collegiale che, ripeto, parte dalle esperienze. Ringrazio anche la capogruppo di Sinistra Verdi e Ecologi Verdi Sinistra, chiedo scusa, grazie per essere presente anche a te. Come vi dicevamo, appunto, sarò breve perché mi interessa soprattutto dare spazio non solo al racconto e alla testimonianza, ma anche, come dire, sviscerare, lasciare sviscerare a voi il contenuto della proposta. Un contenuto della proposta che parte, ripeto, da un ascolto importante e la cornice in cui mi permetto di inserire questa proposta nasce naturalmente dal fatto che questo è un Paese in cui molto spesso si parla non solo di natalità a sproposito e di maternità a sproposito, ma sappiamo anche quanto è difficile, tra l'altro, la maternità, la maternità normalmente nel nostro Paese, quanto crea, tra l'altro, delle disuguaglianze. Cito quelle del lavoro, perché sono quelle che conosco meglio e che dobbiamo dirci con assoluta franchezza. Riguardano tutte le donne, le donne madri, ripeto, al netto di molta retorica sulla maternità. Poi sappiamo che invece ancora oggi, nel 2023, la maternità molto spesso rischia di essere un ostacolo per le donne, soprattutto nel mantenimento del proprio posto di lavoro, a maggior ragione, diciamo, di progresso di carriera. E fatemelo dire, immaginatevi se questo vale per tutte le donne in generale, vale ancora di più, mi permetto di dirlo, Laura e Antonella, ancora di più per chi ha una disabilità. E qui faccio subito una prima riflessione. Visto che noi vogliamo dare una mano, vogliamo fare un'opposizione costruttiva, Vogliamo dire che se vogliamo davvero valorizzare la maternità, servono tanti strumenti, mi verrebbe da dire intanto dall'attuazione del PNRR e quindi la necessità di avere degli strumenti a sostegno di un welfare, penso agli asili nido in primis e in generale al ripensamento delle materie che riguardano i congedi, i congedi parentali obbligatori. Anche su questo naturalmente come Partito Democratico abbiamo fatto delle proposte, ricorderete tutti il primo question time della nostra segretaria nei confronti della Meloni, dove noi abbiamo anche ribadito la nostra posizione su questo tema. E infatti, così inizio ad entrare nella proposta di legge, infatti sul congedo parentale obbligatorio noi non interveniamo in questa proposta, non interveniamo perché abbiamo l'ambizione e vorremmo sfidare su questo il governo e la destra nel provare davvero ad allargare il congedo parentale obbligatorio, retribuito, perché questa è la parola magica, paritario in termini di tempo, e allora nella proposta invece a proposito decidiamo di intervenire sull'aspetto che riguarda invece il congedo appunto facoltativo, per allungare e rendere anche più flessibile i termini. Parto da questo, ma c'è un elemento di contesto di nuovo che vorrei aggiungere e che riguarda l'articolo 9 del nostro disegno di legge, che parte da un assunto, guardate, poi lo possono dire meglio di me le amiche e i colleghi, il tema della raccolta dati. Abbiamo un grandissimo problema in questo Paese in genere che riguarda tra l'altro le letture di genere sui dati ufficiali, ma in modo particolare, la dico così, sui temi che riguardano la disabilità in modo particolare. Ho di recente appunto letto alcuni studi perché si stanno affermando per fortuna dei disability study ovviamente di genere in giro per l'Europa, anche su questo l'Italia in realtà è un po' indietro, è un po' ferma. Abbiamo la necessità invece di fare anche questo salto culturale, nel senso che oggi noi abbiamo una distinzione solo in termini generali, cioè disabili. Quindi non c'è un numero preciso che divide per genere la disabilità, immaginatevi ancora meno rispetto al tema delle donne. Abbiamo fatto fatica anche noi nel costruire questo percorso ad avere dei dati precisi. Invece, come ci ha insegnato in Audi, se non si conoscono i dati, se non si conoscono le cose è anche molto difficile intervenire e deliberare in modo preciso e puntuale. E allora, proprio perché mancano questi dati e mancano quindi degli strumenti essenziali, abbiamo la necessità di fare che cosa? Naturalmente di ascoltare chi l'ha vissuta in prima persona questa esperienza coraggiosa, fatemelo dire, più del normale. Oggi si dice spesso che infatti bisogna essere o molto benestanti o molto coraggiosi per mantenere, per costruirsi una famiglia in questo paese, per le condizioni di precarietà legate alla vita dei giovani, per la difficoltà, come dicevamo, per le donne, soprattutto, su cui ancora oggi grava di più il carico di cura. Naturalmente noi auspichiamo che si passi da un'idea di conciliazione vita-lavoro, che è stata tutta declinata al femminile, a un'idea e a una concezione di condivisione genitoriale ed è lì che insistiamo sul tema dei congedi paritari, obbligatori, retribuiti, perché quel salto culturale va accompagnato e lo sappiamo che per accompagnare questi salti culturali servono non solo politiche adeguate, ma, fatemelo dire, per l'appunto, a proposito dell'articolo 3 della Costituzione, sostegni economici adeguati. E sempre quell'articolo 3 che ci ispira rispetto al contrasto alle disuguaglianze per provare a rimuovere quegli ostacoli che di fatto, di fatto impediscono alle donne, in questo caso, di potersi esprimere o, in generale, di poter vivere l'esperienza della maternità, a maggior ragione ci sembrava opportuno, ripeto, in un Paese in cui sentiamo parlare anche a sproposito ogni riferimento al Ministro Lollobrigide puramente casuale, o non solo, dalla natalità alla sostituzione etnica, addirittura, appunto, all'idea di un sostegno alla maternità che non si concretizza in nessuna misura, sentivamo la necessità e l'urgenza di intervenire in questo senso. Quindi ci sono degli articoli in sostegno agli incentivi all'occupazione, al mantenimento dell'occupazione, questo vale sia per le donne disabili che per le donne in realtà che hanno figli con handicap gravi, perché anche questo è un elemento molto importante, poi c'è naturalmente tutto l'aspetto di sostegno al percorso di accompagnamento, alla gravidanza e al postpartum per le donne con disabilità, che è naturalmente un tema da cui, anzi è il tema da cui siamo partiti, proprio perché bisogna innanzitutto garantire non solo le prestazioni normali, ma bisogna anche accompagnare questo percorso, cosa che oggi, come ci potranno benissimo raccontare, si fa fatica a vivere pienamente. Ecco, la discriminazione in qualche modo multipla o intersezionale alla quale ci troviamo di fronte necessita quindi di risposte complesse e che partono dall'avvio della gravidanza e dal sostegno alla gravidanza al postpartum proprio rispetto a un'attenzione ai servizi. Fatemelo dire, mai come in questo tempo dopo che la pandemia ci ha insegnato quanto è importante ragionare, investire, non solo in prevenzione, in salute, in sanità, a maggior ragione noi abbiamo delle necessità che abbiamo tradotto. Eccola qua, bene, ben arrivata Laura, ti aspettavamo, infatti io l'ho fatta più lunga. Grazie per essere arrivata, se ti va di raggiungerci qui? Io mi permetto. Aspetta, no. E quindi insomma, dicevo, abbiamo la necessità di interrompere, anche da questo punto di vista, in modo molto puntuale. Ci sono dei dati che invece abbiamo a nostra disposizione e che ci dimostrano come abbiamo davvero un numero esiguo di strutture idonee a garantire efficacemente la salute ginecologica delle donne disabili, sia dal punto di vista dell'accessibilità delle strutture che permane come tema, sia delle apparecchiature, sia dal punto di vista del personale medico. Insomma, la situazione naturalmente è complessa. Sappiamo benissimo le difficoltà che sta vivendo il nostro sistema sanitario a causa della carenza di organico, che non consente naturalmente la presa in carico dei bisogni specifici a seconda delle diverse disabilità. E invece proprio su questo si deve basare la nostra sfida da questo punto di vista. L'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, cito solo questo dato, poi lascio la parola, aveva condotto un'indagine nel 2021 da cui era emerso che il 43,4% delle donne con disabilità non esegue i necessari controlli ostetrico-ginecologici. Di queste, l'83% per la mancanza di un sollevatore o di personale esperto per il trasferimento sul lettino, il 61,9% perché ha difficoltà ad assumere determinate posizioni nell'utilizzo di alcune strumentazioni. Ecco, da questo nasce, fatemi dire, l'urgenza di intervenire, prima con un atto normativo e poi con un investimento culturale per garantire la piena accessibilità di spazi e servizi dedicati alla salute, anche riproduttiva femminile, anche alle donne con disabilità. attualmente, appunto, ancora troppo discriminate e laddove c'è una discriminazione, io spero, e vi devo dire che quando ho trasferito, l'abbiamo fatto un po' velocemente, proprio perché ci tenevamo a cogliere l'occasione della festa della mamma per ricordare che ci sono tante genitorialità e che ci sono tanti diversi approcci alla maternità, però devo dire che l'attenzione delle forze politiche a questo argomento mi sembra che possa esserci, alcuni colleghi e alcune colleghe hanno già iniziato a sottoscrivere una proposta che, appunto, abbiamo iniziato a condividere solo ora e su questo, naturalmente, noi lo facciamo con spirito costruttivo, proprio perché sappiamo che dove ci sono delle problematiche bisogna intervenire, provando a portare anche delle soluzioni molto concrete e molto praticabili, quindi vedremo cosa ci riserva il futuro, ma certamente noi su questo vogliamo partire. Mi fermerei qua, naturalmente, ringraziando ancora Antonella Tarantina, Disabilmente Mamma, e se, diciamo così, partirei da lei proprio perché con Disabilmente Mamma abbiamo iniziato questo percorso di ascolto e di condivisione. Solo una battuta, consentitemela, voglio anche ringraziare, oltre a Disabilmente Mamma e oltre al supporto, diciamo, di pensiero, chi sta al tavolo con me, anche il dottor Tommaso Grillo, che è stato indispensabile per la redazione del testo. Grazie, prego, Antonella. La ringrazio, vi ringrazio innanzitutto per essere qui oggi. Io quando otto anni fa, otto anni e nove mesi fa, rimasi incinta, mi ritrovai sola. Ero una piccola goccia in un deserto e quando cercavi delle informazioni da sanitari, sportelli sociali, nessuno ti sapeva dare una risposta. Nessuno, anzi, molte volte quasi denigravano questa scelta, proprio perché non avevano loro stesse persone con cui confrontare il tuo caso. Da qui è nata poi una gravidanza sotto pressione, in cui mi sono state proposte delle cure mediche, come dire, schematizzate, senza tener conto del mio singolo caso. Ma perché, secondo loro, essendo io una persona disabile, dovevo essere considerata, per esempio, gravidanza a rischio. Punto. Non c'erano alternative. Senza parlare poi del dopo parto. Il dopo parto per me è stato traumatico. L'ospedale, senza arte né parte, ha preso, ha avvisato i servizi sociali. Perché io sono sposata con mio marito che è sano. Quindi questo per me è stata una cosa di cui ancora, Laura lo sa, ne porto i segni. È stata proprio una cosa traumatica. Immaginatevi, avete appena partorito, siete ragazzine, vi trovate questo fagottino in braccio. Non sapete, no? Non sapete come funziona perché è il primo figlio. E vi arrivano gli assistenti sociali in camera e vi dicono dimostraci che lo sai accudire. Provate poco poco ad immaginare cosa ho potuto provare. Oppure, come ti senti come madre? Come faccio a sapere adesso? Venimelo a chiedere fra vent'anni. E questo dolore, questo forte dolore, perché poi ho passato un anno a dover dimostrare a loro di esserne capace, e alla fine sono usciti, sai, sei stata brava, ciao. Dico, grazie, eh, grazie. Che fortuna, esatto. Quindi è stato veramente orrendo. Da questo profondo desiderio di cambiamento, perché era ingiusto che una donna vivesse questo, ho cercato sul web. Ho cercato sul web altre donne, perché era impossibile che ce l'ho solo io. Era impossibile. E ho trovato Samantha Crespi, Margherita Dastiello, Maria Giuseppa Fadda, Simona. E poi la mia strada si è incrociata con quella di Laura, che a sua volta aveva fatto un percorso simile. Abbiamo creato prima un gruppo WhatsApp di mutuo aiuto. Ecco, questo in Italia manca, il mutuo aiuto. Nessuno sportello c'è questo. nessuno, non sanno neanche cos'è il mutuo aiuto. Poi successivamente, in cui abbiamo inserito anche persone qualificate come ginecologhe, estretiche, successivamente abbiamo creato una pagina Facebook, perché adesso, diciamolo, i social sono diventati una finestra sul mondo che ci dà l'opportunità di confrontarci con gli altri. E successivamente non poteva che nascerne, insieme alla dottoressa Coccia, un'associazione. Da qui è nato Disabilmente Mamme. E ritengo che nel 2023 sia ingiusto che tutte le bambine con disabilità, qualsiasi sia la disabilità, devono passare anche la metà di quello che ho passato io. Perché ci evolviamo in tutto. Per questo io mi auguro veramente di cuore che questa proposta aiuti queste donne, future donne, a non dover passare tutto questo. Me lo auguro veramente di cuore. Per questo la ringrazio. Grazie a te Antonella. Davvero, come capite, sono tante le questioni ed è il motivo per cui io penso che di nuovo, se vogliamo essere utili alla realtà di questo paese, bisogna oggettivamente prendersi carico di quello che accade e farlo con attenzione. Laura Coccia, a te la parola, anche magari per integrare rispetto alle cose che abbiamo sentito d'Antonella, rispetto proprio al tema dello sportello e non solo, insomma, che abbiamo inserito nella legge. Grazie Chiara. Buonasera a tutti e grazie di essere qui e dell'interesse verso questa proposta di legge. Che nasce, come avete sentito, dall'esperienza di ognuna di noi. Io quando sono rimasta incinta 4 anni fa, anche io ho cercato su Google perché siamo abituati a fare così e Google mi dava risultati zero. Eppure io sapevo che esistevano altre madri della generazione precedente alla mia con una disabilità. Eppure nessuno aveva raccontato la sua esperienza. E allora ho detto, ok, se non l'ha fatto nessuno, se io non posso avere un confronto, se, come mi aveva avvisato da subito sia la mia ginecologa che il mio ortopedico, ok, facciamo questa roba, ma sappi che non c'è letteratura. Non c'è letteratura scientifica vuol dire andiamo passo dopo passo vedendo quello che succede. E quindi a un certo punto, il giorno dopo aver fatto la morfologica e quindi essere sicura che la gravidanza stesse procedendo bene, ho deciso di lanciare una campagna mediatica sui social network che è esplosa nel momento in cui abbiamo fatto un video io e mio marito in cui prendevamo in giro le persone che ci facevano delle domande completamente incomprensibili, tipo ma siete sposati? Ma vi vedo insieme? Scusa, ma che lei è incinta? A meno che io non abbia ingoiato un pallone, evidentemente sì. Ah, e come avete fatto? Ma chi lo sa? A tenogenesi, evidentemente. E quindi da quel video è nata una piccola comunità, ci siamo poi incontrate con le altre ragazze e abbiamo deciso di creare un'associazione affinché quella solitudine che ognuna di noi ha provato non rimanesse più tale per noi stesse qualora volessimo fare un secondo figlio e per le future altre madri, per le prossime generazioni, perché ci sono due cose che vorrei sottolineare di questa proposta di legge innanzitutto la helpline che trovate all'ultimo articolo, perché forse può sembrare la parte meno importante eppure una donna che scopre di essere rimasta incinta può aver bisogno di un confronto o di sapere semplicemente quali sono gli strumenti che il territorio mette a disposizione, dov'è un consultorio, quali sono i miei diritti, che cosa mi capiterà. Poi abbiamo voluto evidenziare nel testo di legge che l'essere disabili non vuol dire necessariamente avere una gravidanza a rischio la disabilità non impedisce la gravidanza, non impedisce il normale svolgimento di una gravidanza è semplicemente, lo sapete bene, l'ho sempre detto, disabile è un aggettivo e come tutti gli aggettivi non incide sul normale svolgimento di una gravidanza però c'è bisogno di un altro codice di attenzione perché è evidente che una persona con disabilità ha bisogno di alcune attenzioni particolari io ho avuto la fortuna di rimanere in piedi fino a una settimana prima di partorire e non ci avrebbe messo la firma nessuno perché? Perché io dal quinto mese di gravidanza ho avuto la possibilità di fare la fisioterapia domiciliare e poi di continuarla durante il ricovero in ospedale ma questa è stata una possibilità che io mi sono potuta permettere perché è importante rimanere, nessuno ne parla, perché è importante rimanere in piedi? perché altrimenti avrei dovuto fare l'eparina quindi avrei dovuto avere uno svolgimento diverso della gravidanza e non era assolutamente... cioè era possibile proseguire in piedi bastava semplicemente avere uno strumento che è giusto però che le future madri con disabilità possano avere direttamente in automatico nel momento in cui il codice di esenzione viene applicato perché io immagino, io ho avuto la possibilità di pianificare la mia gravidanza ma chi una ragazza che rimane incinta perché decide di avere un figlio e non sa nulla però deve essere accompagnata durante la gravidanza e deve essere accompagnata durante il postpartum perché ad esempio nel mio caso nessuno sapeva e si aspettava che i morsi uterini quindi i crampi che si hanno nelle ore successive al parto perché l'utero deve rientrare nella sede originaria avrebbero interferito con la spasticità e quindi il mio partorerai con dolore non è stato al momento del parto visto che ho fatto il cesareo e non ho sentito nulla e me lo sono goduto ed è stato il momento più bello della mia vita ma io nei giorni successivi ho passato le pene dell'inferno perché poi dovevo allattare e non potevo prendere antidolorifici se non la tachipirina ma per questo specifico caso ripeto non c'era letteratura scientifica non c'erano dati non c'erano studi e quindi io ho accettato ma lo sapevo passatemi il termine di fare la cavia ma è importante come è importante fare testimonianza come è importante fare rete come è importante diciamo sempre che nessuna rimanga indietro per questo Chiara io ti ringrazio e ringrazio Marco e ringrazio tutto il Partito Democratico che ci sta mettendo veramente tutta la forza possibile perché nessuna rimanga indietro e adesso ripasso la parola a Chiara perché è importante anche sentire le altre grazie Laura che nessuna rimanga indietro è una battaglia appunto che ci ospitiamo possa essere davvero trasversale in tutto il Parlamento a proposito è passata prima ci tengo a ringraziarla la capogruppo anche del Partito Democratico alla Camera Chiara Braga e appunto come vi dicevo un sostegno trasversale inizia già a arrivare ho avuto un'adesione che mi fa piacere citare quella anche di Maria Elena Boschi alla proposta lascerei la parola a Laura Miola che ci fa veramente un grande regalo di essere qui con noi in presenza l'aspettavamo da remoto invece ci ha raggiunto e quindi insomma la tua testimonianza è molto importante lo dico per chi non la conosce perché parla di questi temi e lo fa sui social network e tra l'altro con un seguito notevole quindi è molto interessante ti ringraziamo per questa divulgazione che ci consente per l'appunto di superare un po' di barriere culturali ecco grazie grazie a voi e sì ho una malattia genetica rara e per questo la malattia mi ha compromesso l'utilizzo delle mani e dei piedi ho due meravigliosi bambini per questo mi definisco una mamma seduta come anche inizia a chiamarmi il mio primo bimbo che adesso ha cinque anni secondo ha un anno e appunto nello scenario collettivo si pensa che le persone con disabilità vivano una vita piena di rinunce e difficoltà e in primis c'è la maternità c'è ancora questo tabù che le donne disabili rinuncino a diventare mamma perché è troppo complicato troppo difficile ma non è così perché difficoltà non è sinonimo di impossibilità e c'è ancora tantissimo pregiudizio come diceva prima Laura tante persone ti fanno tante domande ad esempio a me è capitato proprio qualche settimana fa una signora che mi ha detto ma è tuo ma come l'hai fatto signora con mio marito l'ho fatto però ora cosa le devo dire no perché non pensavo che anche le donne con disabilità potessero diventare mamma c'è molta non conoscenza ecco questo è quello che noto io ma visto che io ho molto seguito su su instagram mi capita di incontrare tantissime donne ragazze che hanno questo desiderio nel cuore di diventare mamma e mi fanno tantissime domande Laura come hai fatto così come questo come io però mi trovo in difficoltà perché ogni caso appunto è a sé però c'è tanto bisogno di divulgazione di informazione proprio per dare questo supporto e dire che che è possibile io quando sono rimasta incinta per la prima volta ma anche quando ho iniziato a fare comunque tutti i controlli ginecologici che una donna fa è stato abbastanza complicato soprattutto per salire sul lettino poi con un pancione di nove mesi l'ho ancora di più e ho fortunatamente ho un marito che è forte che mi ha alzato però capite anche il personale sanitario era abbastanza in difficoltà per non parlare dei toggi a piedi per questo potrei raccontare scene abbastanza tragicomiche però ci sono soluzioni appunto che possono possono davvero sostenere le donne e farle sentire parte integrante di 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 una società a tutti gli effetti e anche quando sono tornata a casa mio marito ha dovuto necessariamente trascurare il lavoro per darmi una mano e non potevo rimanere da sola con il bambino poi c'era tutto un recupero e proprio gli anni i primi anni sono quelli più fisici in cui c'è bisogno di di tanta fisicità per stare dietro un bambino e io sono stata veramente felice quando ho potuto assumere una un aiuto una signora che mi aiutava mi aiutava in casa che era l'estensione delle mie braccia e delle mie gambe dove io non arrivavo per questo è importante dare aiutare una mamma con disabilità significa aiutare un'intera famiglia e io mi sento veramente fortunata ad abitare in un paese come come l'Italia perché tanta strada è stata fatta e tanto ancora si deve fare ma aggiungere tassello dopo tassello anche questa legge è importante può essere un esempio un esempio davvero per tanti altri paesi perché non c'è nulla in questo momento grazie grazie davvero Laura io chiederei a Marco Furfaro cofirmatario della della legge ovviamente di di dare il suo contributo grazie allora grazie a te Chiara naturalmente grazie ad Antonella Laura Coccia che conoscevo già e a Laura con cui le ultime Antonella e Laura tra Laura le conoscevo via social sono particolarmente contento ringrazio davvero anche Chiara perché il lavoro è partito da lei e sono particolarmente contento perché è la prima iniziativa fatta dalla nuova segreteria sul tema del welfare e parte esattamente da qua perché non sta semplicemente solamente dentro a una dinamica di delega o settoriale e nemmeno dentro un elemento molto importante che è il contrasto alle disuguaglianze ma parte da un punto di vista con Chiara ne affrontiamo tante volte facciamo una riflessione anche nel mondo della sinistra che dovrebbe essere naturalmente più progressista dell'altra parte che è un po' più conservatrice però parte da un assunto cioè che ogni politica che ogni diritto ciò che fanno le istituzioni gli enti locali ciò che proviamo a mettere in campo in Parlamento deve mutare da un punto di vista che è quello semplicemente settoriale o essenzialista per partire da un presupposto cioè che ogni persona ha il diritto di sviluppare il proprio progetto di vita personale qua non stiamo parlando di sopperire a un bisogno di alcune persone stiamo parlando di un diritto che per alcune persone perché hanno particolari esigenze magari quel diritto viene meno nel momento in cui un diritto non solo non hai la possibilità di esercitarlo oppure come ci raccontava infine Laura o gli stereotipi a cui è stata sottoposta Antonella comporta delle rinunce delle mancanze eccetera quel diritto non è un diritto pienamente assicurato dallo Stato noi partiamo esattamente da questo punto di vista con questa proposta di legge appunto che nessuna rimanga indietro e che il diritto alla maturità alla maternità possa essere un diritto che le persone possano scegliere di esercitare e lo Stato fa in modo che possano esercitarlo al meglio delle proprie possibilità partiamo esattamente da questo in un paese come sapete bene in cui spesso si parla anche a sproposito strumentalmente di natalità di precarità di donne e di lavoro ecco è una piccola grande proposta di legge che sopperisce a una mancanza che racconta anche lo avete sentito negli interventi e da come è nata la genesi di questa proposta di legge racconta anche della necessità della politica che ascolti ciò che è fuori perché spesso è proprio questa frattura che c'è tra magari chi sta nelle istituzioni i corpi intermedi le associazioni le persone che vivono poi ogni dramma quotidiano perché non solo per tanti motivi le proprie caratteristiche fisiche il proprio carattere il contesto socio-economico il contesto socio-economico della propria famiglia tanti possono essere gli impedimenti qua stiamo parlando di una tematica che riguarda le madri con disabilità ma dentro questo progetto c'è l'idea che ogni persona possa avvalersi dei propri diritti e sviluppare il proprio progetto di vita è una proposta di legge che nasce da Chiara Gribaud e dal sottoscritto e quindi dal gruppo del Partito Democratico ringrazio Luana Zanella la capogruppo con me tra l'altro in commissione affari sociali ma lo dico per due motivi il primo perché chiederemo non solo al nostro gruppo parlamentare essendo una proposta di legge che sposa pienamente anche il partito ne fa suo ma non per farlo una banderina perché quando ci sono elementi come questo e battaglie di civiltà come questo chiederemo alle forze di opposizione di firmarla e chiederemo anche alle forze di maggioranza di farlo cioè non interessa a noi la primogenitura di questa proposta di legge ci interessa portarla a casa e in questo c'è anche un elemento diciamo così non dico sfidante però incalzante sul governo perché appunto se il tema è davvero la natalità di questo paese se il tema è davvero proteggere le persone dalle più fragili alle meno fragili ma fare in modo che le singole persone quelle italiane e quelle italiane in cui si è tanto sbanderato e utilizzato in campagna elettorale prima o dopo la nascita di questo governo sono il tema per cui la missione per cui ogni parlamentare ogni partito fa politica fa attività istituzionale noi proviamo ad offrirla esattamente a tutto l'arco costituzionale al fine di portarla a casa perché una cosa che sia forse sottolineata poco tra l'altro costa pochissimo rispetto all'ammontare delle politiche sociali o a provvedimenti su cui potrei fare facilmente polemica e che servivano secondo noi molto poco agli italiani e alle italiane molto più a pochi gruppi che si apparevano di rendite ma non entrando nel tema della polemica politica in un paese in cui spesso tra l'altro la maternità fa spesso rima con licenziamento al fine appunto di provare a garantire appieno ad ogni singola persona in particolare in questo caso ogni singola donna il diritto alla maternità o comunque di scegliere se intraprendere il percorso della maternità perché il tema è quello offriamo non solo all'opposizione ma a tutte le forze di maggioranza questa proposta di legge perché è una proposta di legge articolata ma semplice nel suo sviluppo che prevede elementi di assistenza di aiuto di sportelli di percorsi istituzionali sui territori prevede incentivazione all'assunzione sul lavoro è una proposta di legge omnicomprensiva che va nella direzione di assicurare un diritto cioè non semplicemente di aiutare in un bisogno ma di avere un altro punto di vista cioè di garantire un diritto in più alle persone in questo caso a delle donne che magari vogliono diventare madri e credo che quando si dà un diritto in questo paese penso che dovremmo essere tutti più contenti in questo caso è un diritto tra l'altro che costa pure poco mettere in campo e garantire la piena attuazione quindi ci auguriamo invitiamo e ci auguriamo che le forze di opposizione così come quella di maggioranza possano sottoscrivere la legge e non solo ci aiutino a portarla a compimento perché si potrebbe fare in breve tempo e quindi garantire un diritto in più in questo paese grazie Marco e naturalmente non posso che essere felice che il mio partito anche prenda questa iniziativa non lo dico nella doppia veste ma insomma è importante anche questa condivisione che in questo nuovo corso davvero si faccia più attenzione alle fragilità alle disuguaglianze e fatemi dire appunto a quello che ci ricordava Laura si è sentita sola troppe persone si sono sentite sole il compito della politica quella con la P maiuscola è quella che dovremmo fare tutti è proprio quella di raccogliere le solitudine delle persone e trasformarle invece in qualcosa di diverso e quindi con questo spirito abbiamo voluto costruire questo percorso naturalmente vi abbiamo toccato un po' i punti della legge che sono dieci articoli appunto dal sostegno culturale e non solo ovviamente a quello della linea di aiuto ma anche ribadendo con forza alcuni principi che in teoria esistono già penso all'abbattimento delle barriere architettoniche penso in generale all'accesso ad alcuni servizi che vengono meno e quindi rendere più fruibili alcuni servizi con l'attenzione a che cosa anche qua a proposito di mancanza di attenzione quando vi dicevo non c'è l'attenzione alla questione di genere nella categoria tra virgolette ovviamente disabilità così non c'è attenzione rispetto alle fragilità che una donna disabile magari che subisce violenza necessita di un'attenzione diversa nel proprio percorso ecco anche questo lo troverete nella legge naturalmente c'è un fondo come sosteneva come ricordava Marco appunto non è così onerosa ma certamente è una questione come dire di principio e che sancisce alcuni elementi guardando alla complessità come normale della della maternità e delle conseguenze che questo può avere nella vita di ciascuna di noi e in modo particolare delle donne con una disabilità nel ringraziarvi naturalmente chiedo ai giornalisti se ci sono delle domande e naturalmente se per caso la collega Zanella vuole intervenire noi siamo contenti insomma se ci sono domande o interventi abbiamo ancora dieci minuti poi ci cacciamo al volo soltanto fino adesso l'interesse è arrivato diciamo il confronto è arrivato dalle altre opposizioni mi pare di capire se diceva la Zanella e la Boschi sì nel senso devo dire con molta franchezza in realtà diciamo l'abbiamo lavorata un po' velocemente e quindi per ora l'occasione è stata quella di iniziare a condividere un po' l'informazione di questa conferenza e un po' il percorso che vogliamo avviare a partire da un confronto con le opposizioni ma la volontà e anche l'interlocuzione naturalmente e può essere con le forze di maggioranza a maggior ragione visto che questo governo ha fatto la scelta di avere una ministra per la disabilità e quindi diciamo naturalmente è anche con lei che vorremmo interloquire sì prego vai vai ovviamente aggiungete tutto quello che volevo aggiungere qualcosa a proposito dell'importanza dell'accessibilità dei presidi sanitari e dei consultori perché quello che che io ho notato è che i reparti di di ortopedia solitamente sono iperaccessibili per le persone a mobilità ridotta i reparti di ostetricia ginecologia e consultori assolutamente no io ho partorito in un ospedale pubblico romano e sono stata ricoverata l'ultimo mese e mezzo per delle complicazioni metaboliche che possono sopraggiungere in ogni gravidanza assolutamente non legate alla disabilità e la prima difficoltà che abbiamo dovuto affrontare è stata quella che non ci fossero i letti elettrici e quindi c'erano ancora i letti degli anni settanta io avevo ero la trentunesima settimana di gravidanza la soluzione è stata dare il permesso a mia madre di trascorrere un mese e mezzo al mio fianco per sopperire al fatto che avendo una camera da quattro ed avendo i bagni in comune per tutto il reparto diventava un po' complesso per le infermiere portarmi tutte le volte in bagno e vi assicuro che nell'ultima fase di gravidanza si fa molto spesso la pipì mi chiedo se io non avessi avuto mia madre o non avessi avuto una figura della mia famiglia disposta a trascorrere circa 45 giorni più il postpartum al mio fianco che cosa succedeva? è bello il fatto che in Italia si possa a volte contare molto sulla propria famiglia ma non tutti lo possono fare e soprattutto uno Stato non può permettere di delegare alle famiglie quindi è importante rendere accessibili anche i reparti di ostetrice e ginecologia ma non solamente alle donne disabili incinte perché si parla anche di prevenzione fare o non fare un pap test fare o non fare una mammografia può voler dire prevenire o non prevenire tumori anche mortali rinunciare a fare prevenzione e quindi rinunciare all'accesso alle cure vuol dire avere un diritto negato un diritto che basterebbe un lettino elettrico basterebbe che il personale fosse formato sul fatto che non esiste una sola posizione che la donna può assumere ma ogni donna può avere la sua perché questo è il mese di maggio è il mese della race for the cure quindi c'è un'attenzione particolare a questi temi si parla di prevenzione anche le donne con disabilità devono aver diritto di accedere alla prevenzione perché una donna con disabilità che arriva e si trova una barriera culturale o architettonica magari il pap test o la mammografia lo fa la prima volta la seconda non ci torna e questo è uno degli aspetti più importanti insieme e questo per questo vi faccio un appello alla comunicazione alla divulgazione per tutte le bambine con disabilità ragazze si può fare siatene consapevoli e non fermatevi davanti a chi vi dice che noi dobbiamo sempre giocare di sponda noi siamo le protagoniste della nostra vita se sogniamo di diventare madri lo possiamo fare un ultimo intervento riguarda la violenza alle donne con disabilità purtroppo i dati quei pochi dati che siamo riusciti ad accogliere rivelano che è molto più facile per una donna con disabilità avere violenza avere violenza dal compagno dal caregiver dai familiari stessi a volte e non c'è supporto non c'è servizio per una donna con disabilità perché molte volte manca una figura professionale pronta ad accoglierla prendiamo chi ha una disabilità per esempio come vogliono essere proprio chiamati così come i sordi quindi una disabilità uditiva non si trova molto spesso l'interprete lì e immaginate una donna che deve spiegare che la persona che dovrebbe accudirla e amarla invece la picchia e molto spesso e sono i familiari stessi che dicono no devi starci con questa persona perché è già tanto che ti ha presa come se fossimo un pacco Amazon che è già tanto che l'abbiamo ordinato quindi l'articolo 6 parla appunto dell'accessibilità nei centri antiviolenza perché nella nostra associazione ci arrivano troppe troppe lettere del genere grazie anche per aver sottolineato appunto questo passaggio che credo sia sintomatico di una cultura patriarcale diffusa radicata in questo paese ovunque non solo per le donne con disabilità e che a maggior ragione dobbiamo affrontare e provare a superare insieme se non ci sono altri interventi o altre domande naturalmente direi che possiamo chiudere prego certo certo finché non ci cacciano come vi dicevo in genere sono però non vedo segnali di protesta però buongiorno buonasera anzi io sono per assurdo forse la più grande di disabilmente mamme ma sono l'ultima arrivata io sono una donna di 54 anni che vedo sulla sede rotale dalla nascita e ho una figlia di 28 anni quindi io quando sento le loro storie rivedo me 28 anni fa ed è assurdo secondo me che dopo 28 anni siamo ancora come si stava all'epoca cioè io dico all'epoca perché a me sembrava storia ormai non pensavo che potesse ancora oggi esserci tutto questo e quando infatti poi ho conosciuto Antonella Laura mi sono confrontata con tutte queste giovani mamme di cui mi sento un po' la mamma in qualche maniera io mi sono sentita proprio dentro di volerle seguire di voler combattere con loro e quando mi hanno parlato di questa proposta di legge io ho detto sì assolutamente sì io voglio essere con voi non voglio essere lì davanti perché siete voi giustamente però io voglio seguire e credo che sia giusto che chiunque io non credo che in fondo ci possa essere una persona che possa dire che questa proposta di legge sia sbagliata perché chiunque possa dire una cosa del genere per me è assurdo semplicemente questo grazie grazie Carla mi permetto di ringraziarti anche perché appunto c'è anche il passaggio generazionale ci ricordi come evidentemente non siamo fermi abbiamo ricordato come questo in paese che sulla disabilità per esempio è all'avanguardia dal punto di vista spesso della normativa sappiamo però che ci sono degli elementi da aggiornare e del motivo per cui appunto anche in questa norma noi facciamo riferimento alle norme pregresse penso alla 104 che naturalmente è quella storicamente più importante e significativa rispetto a questi argomenti e poi ce ne sono altre ma sappiamo a proposito di welfare da ripensare quando ragioniamo in termini generali evidente che nel frattempo il mondo è cambiato così come sono cambiate e cambieranno le disabilità peraltro e quindi anticipare i processi con normativi con degli strumenti flessibili lo dico perché appunto noi inseriamo degli elementi flessibili che possono essere riadattati un fondo dedicato vuol dire che poi se cambiano i bisogni possono cambiare anche gli strumenti dedicati per dire e appunto e ci sono vari aspetti da contemplare quindi è molto importante ringrazio anche per questo passaggio perché ci dimostra come è importante intervenire oggi perché per troppo tempo di fatto purtroppo non si sono fatti grandi passi in avanti su questi su questi pezzi poi certamente magari sulle barriere culturali su una certa sensibilità qualche salto in avanti l'abbiamo fatto ma ci sono degli impedimenti concreti diciamo così materiali no? e ritorno sempre all'articolo 3 della Costituzione che è nostro dovere provare a rimuovere e naturalmente ci auguriamo di poterlo fare trasversalmente nelle aule parlamentari perché ovviamente è luogo in teoria deputato a svolgere questo lavoro ma saremo ben contenti se ripeto ci sarà un confronto in questo senso con la ministra che ha una delega specifica e quindi ragioniamone volentieri le risorse a disposizione sono poche come sempre si fanno proposte troverete le coperture non insomma facciamo l'opposizione responsabile anche da questo punto di vista grazie ancora se non ci sono interventi vi ringraziamo per essere intervenuti così numerose numerosi e buon pomeriggio e buona festa delle mamme a tutte voi grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti